Cultura che calamita sempre di più i vicentini e proprio a loro il privilegio di gustarla in prima fila con i martedì dei vicentini in cui i nati o i residenti nel comune potranno entrare alla mostra in Basilica Palladiana, la fabbrica del rinascimento ogni martedì di gennaio o febbraio con un biglietto ridotto a 9 anziché 13 euro. Ma non solo, le novità per i visitatori che hanno apprezzato le visite guidate non finiscono qui. Il sabato e la domenica avevamo due turni fissi, uno al giorno, di visite guidate. Piace molto l'idea di non dover prenotare la visita ma di averla a disposizione e quindi la estendiamo. Sarà previsto anche un turno alle 15.30, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.